Grazie a tutti di essere tutti questa sera, è una serata che abbiamo pensato sia per raccontare la disposizione di Rexhound Biscuitana in noi, sia per dare un momento di riflessione sui cambiamenti urbani, cambiamenti umani e cambiamenti climatici. Io così avrei voluto spegnere la sala e arrivare un attimo al buio, però noi possiamo immaginare di essere al buio e in questo attimo in cui siamo al buio vorrei che tutti noi ci fermassimo in un attimo di silenzio per il massacro che sta venendo al popolo curdo. Grazie a tutti. Ok, grazie.